eccomi qua benvenuti a tutti quanti voi buon lunedì lunedì 5 di ottobre lunedì 5 di ottobre inizia la nuova settimana siamo prontissimi per dare il via anche a tutte diciamo le le cose da fare di questa settimana inizio col fare un saluto speciale al mio caro amico riccardo cozzoli detto divino del bar marino premiata a azienda che si trova a milano nei presi della scala di milano e visto che ci sono anche altri nostri carissimi amici che oggi festeggiano il compleanno prima li lasciamo collegare e poi diamo la possibilità di ascoltare questo messaggio di tanti tantissimi auguri come dicevo oggi è il 5 di ottobre lunedì pensate è il 279 giorno dell'anno la chiesa ricorda san placido e santa faustina e il sole è sorto le 7 e 12 e tramontano le 18 e 45 voglio ricordarvi che oggi è la giornata mondiale degli insegnanti a cui faccio tanti tantissimi in bocca al lupo per questa situazione perché non è una molto facile anche perché sapete benissimo si sta attraversando una una situazione particolare visto il i ristrincimenti del delle dei contagi da covid però facciamo un po' di storia ieri per esempio abbiamo avuto una puntata di radio show speciale il nostro caro Raffaele e il caro franco l'americano sono venuti a travarci vediamo se riesco a mettermi in contatto con l'amico Raffaele perché lui giustamente è tra i personaggi presenti di questa nostra diretta vediamo un po' se riusciamo a chiamarlo su whatsapp così vediamo un po' se è disponibile dove si trova in questo momento magari ecco vediamo un po' dove si trova e poi gli facciamo fare anche gli auguri a chi si collega ecco vedete eccolo qua il nostro Raffaele Raffaele sei pronto a farti vedere sentiamo stiamo aspettando di collegarci nel frattempo colgo l'occasione per salutare quelle persone che sono collegate eccolo qua eccolo qua eccolo qua video chiama in in diretta su radio show guarda un po' come 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 si presenta oggi il nostro Raffaele ecco un po' questa faccia senti Raffaele vedi che c'è un mio amico che oggi festeggia il compleanno voleva sentire da parte tua gli auguri e gli dovevi anche cantare tanti auguri si chiama Riccardo Cozzoli eh sì sì ma devi cantargli anche la canzoncina tanti auguri a te chi è chi è chi è la compagnia fammi sapere chi è la compagnia e vediamo vediamo chi è fammi vedere sì sta tutto in diretta la gente la gente ti sta vedendo in diretta vedi sei in trasmissione lo sanno lo sanno tutto il mondo tranne Filomena adesso eh lei lo sa perché sta vedendo la trasmissione è tutto in diretta che faccia che fa guardate che faccia che fa senti Raffaele dove ti trovi adesso dove dove che ti vengo a prendere dove stai seduto sì ma adesso in quale bar ti trovi che ti vengo a prendere così ti faccio dare le mazzate la Filomena vediamo 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 chi è indovino 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 ma io sa fa lo sapevo stiamo facendo la trasmissione in diretta in questo momento vedi siamo in diretta siamo la trasmissione in diretta e ho detto Raffaele siccome deve fare gli auguri a un amico mio che oggi compie gli anni ha detto ma mi fai fare gli auguri a Raffaele di ma io ho chiamato Raffaele non ho chiamata a te che c'entri tu mo brava brava passami Raffaele un bacione a Maria ciao Maria senti Raffaele cantami tanti auguri all'amico di Dino dai forza muoviti tanti auguri allontanati io so dove stai tu stai da Guendalina eh si vede il si vede l'ombrellone si vede l'ombrellone non ti sento più Raffaele ehi ah ecco dimmi allora tanti auguri a Riccardo Cozzoli forza oh e canta tanti auguri no che cacchi di canzone è questa Riccardo scusalo Didi c'è da fe se non sono così chi è ti baci pure ma no si è baciato in diretta si sei baciato in diretta si è visto madonna e bo dove vai al bar italiano sì sì e va bene va bene va bene tu nel frattempo che vai a caffè italiano ecco rimango così così ti faccio vedere ti faccio vedere la faccia che fai in questo momento dai senti Raffaele mi racconti hai visto la trasmissione di ieri l'hai vista la trasmissione ecco io prima di dare questa informazione volevo ricordare agli amici che se vogliono possono vederla sia sulla pagina facebook dj vittorio cassinesi che anche sulla pagina youtube sempre cercando vittorio cassinesi quindi in questo caso sia su youtube che su facebook si può vedere tutto quanto poi questa diretta la puoi anche rivedere tu basta che mi vedi sulla pagina e te la puoi rivedere ti vai a vedere quello che hai combinato che si è visto che ti sei visto con la persona e e e e e carogna e cattivello e furbacchione e birbantello senti allora visto che ci siamo devo fare anche gli auguri di compleanno ad un altro amico eh mi fai compagnia mentre arrivi quando aspetta amore facciamo gli auguri insieme aspetta 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 nel frattempo che il nostro Raffaele raggiunge raggiunge il caffè italiano ed è in diretta con la mia eh trasmissione eh che l'ho intitolata speciale tanti auguri ieri era a san francesco abbiamo fatto gli auguri a frango l'americano a mio fratello franco a frango pansitta a tutti i nostri diciamo con con a tutte le francesca e tutti francesco beh adesso 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 andiamo a fare gli auguri a vediamo un po' allora gli auguri a chi cozzoli che eh è il suo compleanno è il mio caro amico di eh di diciamo di tante avventure e in più voglio fare tanti auguri di buon compleanno poi cantiamo tutti insieme tanti auguri a domenico la groia rosa di benedetto francesca cezza eh francesca semiraro massimiliano gentile ancora vediamo un po' pasquale crocetta giusi strippoli ciccio savino marco di lernia vincenzo triglione fabiano equinozio e la fabiano equinozio del bar fra marà andiamo tutti da lui a prenderci il caffè tra un po' eh offre offre fabiano tanti auguri fabiano auguri anche da mio padre che poi ti verrà a trovare nicola cassinesi settantotto il barone girasole e poi ancora auguri a mario porcelli buon compleanno mario ciao mario mario buon compleanno a mario e buon compleanno anche michelina sfregola michele capogrosso ciao michele un saluto un bacio un forte abbraccio a tua mamma rosa e a papà franco e tanti auguri anche e auguri anche ieri a franco capogrosso michele di lernia e valentina battista oh tanti tantissimi auguri a questi nostri amici vai raffaele ora che abbiamo fatto gli auguri a tutti puoi cantarci il tanti auguri a te tanti auguri canta raffaele sempre con sempre con il mio organo eh l'organetto doti l'organetto brand ma oggi ti sei messo la cravatta fa vedere la cravatta vedi la cravatta guardate che cravatta si è messo oggi raffaele guardate attenzione vai raffaele fai vedere la cravatta mamma mia blu oggi oggi quella blu eh cravatta blu benissimo vai tanti auguri raffaele vai riccardo si è collegato riccardo tanti auguri riccardo da parte di raffaele tanti auguri riccardo bene bene tanti auguri anche da parte mia da parte di tutti i nostri componenti della nella band dello studio show e quindi eh raffaele sei arrivato al caffè italiano per caso quanto manca quanto manca ah ti vedo vicino al bar vediamo ecco ci sei ci sei dai facci facci salutare va facci salutare in diretta a Franco e Nicola così gli facciamo fare un saluto alla in diretta alla trasmissione dai ecco è collegato di siamo in collegamento diretto Raffaele Raffaele ascolta ascolta siamo in avvisa a Franco e Nicola che siamo in collegamento diretto su radio show che c'è e lo so ma oggi è morti il cavallo puoi prendere te lo prendi al volo ma tu la mascherina la devi portare voglio ma è possibile ma non ne usi e tu devi portare la mascherina se no diventa un problema perché là nei locali pubblici bisogna portare per forza la mascherina vai a comprarla una mascherina 50 centesimi vai alla farmacia muoviti ce l'hai di fronte ce l'ho io ce l'ho ma però non la uso no la devi usare invece se vuoi entrare in un locale pubblico sei obbligato a tenere la mascherina da oggi e anche nei prossimi giorni sei costretto è italiano e non ne porto e no la devi portare ma ce l'hai addosso la mascherina no no e allora prendi e valla a prendere dalla farmacia che sta di fronte dai valla a comprare 50 centesimi costa che costa sai aspetta ma si mette la mascherina guardate l'indiretta gli stanno facendo ma è una mascherina ma è una mascherina Nicola 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 siamo in diretta siamo in diretta della trasmissione stiamo facendo quello 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 non è faccio un fatto che non c'è la guerra guardatelo guarda sta mettendo la mascherina ma come ti l'hai messa la mascherina scusa ma scusa che razza di mascherina c'hai scusa la mascherina di quelle caricature ma ti sembra ma la mascherina te la devi mettere non te la devi eh se si avvicina se si avvicina qualcuno devi mettere la mascherina no eh per portare la mascherina eh eh che c'è ma quella quella la usi tu sempre ma quella è una di quelle che si usa e si getta dopo si getta dove tu sai dove si getta la mascherina appena usata in quale contenitore ma tu lo sai che il 19 ma il 19 sai che parte la raccolta porta a porta trani e devi differenziare i rifiuti lo sai almeno questo eh sì hanno arrivato i bidoni hanno arrivati i bidoni ma bocchino ma attenta che ti metti tu nel bidone eh che ti devo che ti devono differenziare ti devono differenziare a te ti mettono nell'organico non tossire in faccia al telefonino che si vede che stai tossendo allora va bene senti vedi che Raffaele scusami c'è Riccardo Cozzoli che adesso si è collegato e non ha sentito gli auguri che gli hai fatto glieli vuoi rifare gli auguri per cortesia riprende 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 prima devi dire ladies and gentlemen presenta eh certo certo vai ladies and gentlemen Vittorio Cassinesi presenta radio show co condotto da Raffaele fracca canta franco l'americano eh ma stai franco l'americano si affucano fai senti Raffaele adesso facciamo speciali auguri eh a Riccardo Cozzoli tanti auguri di buon compleanno e vai musica sempre con il mio organo sì l'organo che ti lembrano va bene vai eh tre four sì neline neline ah bravo bravo beh Riccardo speciali auguri per te oggi e per tutti gli altri che hanno partecipato a questa nostra diretta noi naturalmente ringraziamo quelli che stanno guardando questa ignobile trasmissione che sta facendo Raffaele dal telefonino di Whatsapp con la mascherina attaccata al collo che non se la metti metti la mascherina copriti la faccia copri la faccia un attimo un attimo un attimo un attimo Nicola aiutalo eccolo ma quello non è eh devi fare i buchi devi fare i buchi come la maschera di zorro ma quello non è Nicola il modo corretto di mettere la mascherina eh scusa eh dobbiamo fare dobbiamo fare informazioni quella giusta eh informa la gentile clientela Nicola mi fai mi fai parlare con Nicola Raffaele per piacere oh Nicola Nicola ti vorrei ti vorrei solo far notare eh ti vorrei far solo notare che siamo in diretta nella mia trasmissione adesso quindi se tu guarderai questa cosa qua ecco vedi vedi un monitor ti vedi ti vedi ti vedo benissimo allora sappi che devi dare un'informazione corretta per le persone che stanno guardando la diretta come come si indossa la mascherina prima di entrare se non distanziati in un locale pubblico come nel vostro caffè italiano spieghiamolo eh pratica eh eh sì vabbè ma così sembra mascherata e c'è carnaval no questa è una mascherata non è una mascherina oh ecco così si è corretto e adesso come fa a prendere il caffè Raffaele? mantenere le distanze sì ma le distanze le puoi mantenere quando si beve il caffè si abbassa si abbassa? ah va bene? no si è sentito solo quando bisogna prendere il caffè si abbassa che cosa? i pantaloni? i pantaloni? ecco fai vedere le linee fai vedere la linea bravo sì Nicola Nicola scusami Nicola mi fai parlare con Franco adesso che voglio salutare Franco mi fai parlare con Franco cortesemente grazie ciao Franco sappiate che sei in diretta in questo momento sulla trasmissione radio show siamo in diretta senti eh caro Franco volevo sapere se hai eh seguito e come la partita di calcio a Puglia a Trani Women's Women Lecce l'hai seguita la partita? hai seguito la partita? sì o no? si è bloccato ah ecco io volevo sapere cosa cosa è venuto fuori da quell'incontro di calcio? cosa hai visto? facci un resoconto Franco ma mi hai sentito almeno? eh ma parla io non ti sento sono stato presente insieme al vicepresidente perché non era chi c'era chi c'era lì nella eccola ho capito va bene comunque è andata bene la partita ci sono ci sono stati ci sono stati perché ah ho detto il risultato qual è stato si sente bene qual è stato il risultato una 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 si è collegata di coletta una una ha superato il turno la Puglia a Trani benissimo quindi la prossima partita una 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 la prossima partita quando sarà? la prossima partita è la la prossima domenica di campionato la prima di campionato contro il Trottone va bene Franco adesso oltre ad essere tifoso della Puglia a Trani e del Trani se per sé tu ieri sei stato personaggio protagonista di un tuo pensiero in dialetto tranese alla trasmissione che abbiamo fatto l'ho fatta ascoltare quella della raccolta differenziata mi vuoi dire il tuo pensiero cosa ne pensi della raccolta porta a porta che sta partendo il diciannove allora se ti dico il mio desidero personale io sono da si sente a tratti si sente a tratti si sente a tratti Franco si sente a tratti si quindi si sente Franco fermati fermati Franco fermati dovresti fare dovresti ripetere perché andava a tratti la voce o esci fuori dove si sente hai una connessione migliore ecco bravo così almeno si riesce a vedere un po' di luce oh benissimo vai la raccolta porta a porta o differenziata per te cosa ne pensi allora io sono d'accordissimo per la raccolta differenziata si ma non per il porta a porta ho capito io sono d'accordissimo ad avere più aree dove noi troviamo cittadini più bidoni per ogni tipo di rifiuto e dobbiamo andare a depositare noi diciamo a mettere noi nel non il porta a porta quindi saresti più per la differenziata spinta quella più spinta quella che noi abbiamo attualmente creare delle aree in ogni lione più aree in ogni lione dove noi cittadini andiamo a mettere su ogni bidone il rifiuto ho capito ma così ma così non avremo risolto il problema nel fatto che troviamo sempre immondizie per strada se così non peggioreremo il problema si crea solo un caos secondo me per gli anziani per la gente che non può tutto ciò secondo me sarà peggio è il mio parere va bene ascolta ascolta c'è Nico Amoruso che è entrato in diretta adesso e Nicoletta di Candido che stanno guardando e dice Nico dice puoi prendere un telefono più grande che Franco non entra nel monitor ecco vedi ecco vedi è vero hai ragione hai ragione hai ragione hai ragione Franco hai ragione lo so era per scherzare passami Raffaele buona giornata passami Raffaele 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 c'è Raffaele sì oggi stiamo a fare proprio una trasmissione così casa fuori fai vedere la tazzina fai vedere la tazzina fammi vedere la tazzina la tazzina non la vedo la tazzina oh bravo vediamo ma il nome della tazzina non c'è vabbè fai vedere come è fai vedere come è mannaggia a te mannaggia asfera ah va bene vai vuoi stare bene e vuoi cantare cento manni eh bevete ca eh spero guaglio va bene va bene senti adesso adesso ti saluto ci vediamo tra un po' che vengo a trovarti con il barone va bene ci vediamo vengo col barone a trovarvi vengo a trovarvi direttamente al bar a dopo grazie Franco grazie Raffaele eh il cubo ce l'ho qua guarda lo vedi lo vedi lo vedi il cubo eh ce l'ha guarda te lo porto lo porto da fare adesso lo disfo e te lo porto da fare vedi sei pronto sei pronto per fare il cubo vabbè comunque io adesso lanciamo la sfida Raffaele ha detto che darà 50 euro per quelle persone che sanno fare il cubo ha detto Raffaele che darà 50 euro io disfo il cubo voi venite da caffè italiano se lo fate in meno di 5 minuti lui vi darà 50 euro giusto Raffaele? lo dì più assoluto ma assoluto ecco è volacchio assoluto va bene va bene il cubo è qua se volete sei fare il cubo Franco sei fare il cubo eh sei fare il cubo eh ciao vabbè ciao Franco ciao 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 Vittorio Grazie a tutti per questa diretta estemporanea, per gli auguri abbiamo allargato un po' gli orizzonti anche a Caffè Italiano per sentire loro, auguri a tutti questi nostri amici che oggi, ripeto, festeggiano questa ricorrenza, a partire da Riccardo Cozzoli che ancora una volta ci siamo sentiti. E mi raccomando Riccardo ricordati di farmi inserire nel gruppo degli amici Corrino Music, Nicolo Rosso e chi altri fanno parte di questa banda allegra di amici dell'ultima ora. Auguri ancora Domenico Lagroia, Francesca Cezza, Francesca Severaro, Massimiliano Gentile, Pasquale Crocetta, Giusy Strippoli, Ciccio Savino, Marco Di Lernia, ci tengo anche a fare gli auguri a questi nostri amici, a Vincenzo Triglione, Fabiano Equinozio del Bar Flamarà, andate Lucio mi raccomando metti già un caffè per mio padre che stiamo arrivando, Mario Porcelli auguri a Mario, Michelina Spregola, Michele Capogrosso, Michele Di Lernia, Michele e Valentina Battista. Oggi ovviamente questa è una trasmissione così giusto per fare degli auguri, se volete ricordatevi di mettere la campanella su questa pagina DJ Vittorio Cassinesi oppure, lo so, quando sono in diretta faremo un top import mixage, ho preparato già la console che oggi pomeriggio faremo dalle ore 15 e 30 sino alle ore 16, una mezz'oretta di musica da discoteca per rendere, come dire, un po' vivace il pomeriggio e poi la domenica c'è sempre la possibilità di seguire il radio show con il cacantante franco-americano, il co-conduttore Raffaele che avete appena visto nella telefonata su WhatsApp e poi avremo anche qualche altra sorpresa, leggeremo qualche poesia in dialetto tranese, coinvolgeremo qualche ospite, leggeremo e consiglieremo qualche libro, ascolteremo musica rigorosamente in vinile e tutto questo, quando? Questo domenica o quando ci sarà l'opportunità. Però ricordo, mettete la campanellina sulla destra, la seconda è praticamente per le notifiche, per avere la possibilità di sapere in qualsiasi momento sono in diretta, così almeno poi ci possiamo tenere in contatto. Grazie a tutti, buona giornata e ancora auguri a chi festeggia. Ciao!